Buonasera, questa è una edizione del telegiornale che si aprirà con l'annuncio ufficiale del presidente americano Obama di nuove misure stringenti per evitare le continue stragi che, come tutti ricorderete, insanguinano la nazione americana periodicamente. L'ultima quella è di San Bernardino in California, ma se ne ricordano altre di altrettanto terribili. La causa è evidentemente l'uso e la possibilità, la libertà di acquisire le armi da parte di tutta la popolazione americana. Bene, non sarà più così, spiega Obama. Le reazioni, come vedremo, sono immediate in un'America che è già proiettata verso le elezioni presidenziali che porteranno alla scelta del successore di Obama il primo martedì di novembre. Ma vedremo anche le notizie che riguardano la vicenda dei migranti. Perché? Perché torna in primo piano sia purtroppo per nuove morti, nuove decine di profughi che hanno trovato la morte per annegamento e ancora una volta bambini, e ancora una volta tra la Turchia e la Grecia. Ma perché, come si sa, c'è una nuova serrata da parte dei paesi del Nord Europa, Danimarca e Svezia? La Germania preoccupata per una rottura definitiva dell'intesa di Schengen e l'Unione Europea che convoca i paesi più direttamente interessati per domani. Nel giorno, tra l'altro, in cui la Gran Bretagna fa capire, con Cameron, che si va avanti sull'ipotesi dell'uscita di Londra dall'Unione Europea, il referendum famoso. Ma ci sono anche altre notizie che vengono dalla scena internazionale. Perché, come è chiaro, la tensione tra Arabia Saudita e Iran la fa da padrona in tutto il mondo islamico. E, tra l'altro, anche oggi notizie di rotture diplomatiche, di frasi molto, molto dure pronunciate dai vertici sia di Teheran sia di Riad, con l'impotenza conclamata delle Nazioni Unite, alle quali, peraltro, si sono rivolte sia il governo saudita sia quello iraniano. La tensione in Medio Oriente è stata una delle cause del crollo delle borse di ieri. Si attendeva col fiato sospeso quello che poteva succedere oggi. Grazie anche all'iniezione molto massiccia di liquidità da parte della banca centrale cinese, sin dalla mattinata però è stato scongiurato un nuovo crollo. Le borse hanno chiuse tutte in positivo. Ma un altro aspetto, altri numeri preoccupano all'Europa. L'anno 2015 è stato praticamente senza inflazione, 0,2 per tutta l'Unione, solo più 0,1 per l'Italia, praticamente ferma, come non avveniva, pensate, dal 1959. Ma poi parleremo anche di ciò che agita la politica in queste ore. È ancora la questione delle unioni civile e è il monito del nuovo centro-destra nei confronti del PD. Non provate a fare maggioranze variabili con l'aiuto di SEL e Movimento 5 Stelle su quella questione, se no è a rischio il governo. E poi le solite baruffe tra PD e Movimento 5 Stelle. Tra 30 secondi i titoli. A tratti perfino commosso, Obama annuncia le misure contro il libero possesso di armi in America. Troppe sparatorie, oltre 30 mila americani vengono uccisi ogni anno. Dobbiamo proteggere i nostri bambini. Saranno potenziati i controlli sul mercato, compiuti dall'FBI, previsti anche esami sulla salute mentale di chi acquista le armi. Nuova strage di migranti. Due gomoni partiti dalla Turchia e diretti verso l'isola di Lesbo in Grecia si ribaltano a causa del maltempo. Nel naufragio 34 morti, almeno tra di loro anche molti bambini. Dopo la stretta sui controlli alle frontiere di Danimarca e Svezia, che fa vacillare il trattato di Schengen, l'Unione Europea corre ai ripari e convoca i ministri dei due paesi nordici e della Germania. Le autorità iraniane sospendono il pellegrinaggio dei propri cittadini alla Mecca finché l'Arabia Saudita non garantirà maggiori condizioni di sicurezza dopo le migliaia di pellegrini morti nella calca dello scorso settembre. Un annuncio che arriva come un ulteriore inasprimento della crisi e della tensione tra i due paesi dopo l'esecuzione da parte di Riyadh dell'imam sciita al Nimrl. All'indomani del lunedì nero dei mercati, Pechino compra 20 miliardi di titoli di Stato e le borse europee rimbalzano. Nella zona UE, nonostante la supermanovra voluta da Draghi e partita a marzo, l'inflazione resta al palo, 0,2% nel 2015 e ancora meno, 0,1% in Italia, lontani da quel 2% che l'emissione di liquidità avrebbe dovuto provocare almeno nel bienio. Scintille nella maggioranza di governo dopo le parole del vice segretario PD Serracchiani sulle unioni civili. La legge va fatta a tutti i costi anche col sostegno di Selle e 5 Stelle. Insorge il nuovo centrodestra e Alfano minaccia una crisi polemica ancora via web tra PD e Movimento di Grillo. Buonasera, il fatto principale a nostro avviso è l'annuncio solennemente fatto due ore fa da Barack Obama, un Barack Obama che è arrivato, come si sa, alla fine del suo secondo mandato e che tra un anno sarà sostituito formalmente dal successore che sarà eletto nel primo martedì di novembre, un Barack Obama che ha annunciato che c'è una stretta forte per l'utilizzo di armi. Non è possibile, non siamo l'unico paese, ha detto Obama, che conosce la violenza all'interno delle proprie frontiere, ma siamo quelli che la conoscono di più e questo va fermato. Santa Barbara, Charleston, San Bernardino. Too many. Barack Obama annuncia la stretta sulle armi da fuoco e va subito al cuore del problema. Troppe armi, troppi morti, troppo facile accedere ad una pistola, ad un fucile, ad un'arma da guerra. Ogni anno sono circa 30.000 le vittime dell'attitudine americana alle armi facili, attitudine sostenuta dal secondo emendamento, che Barack Obama afferma di conoscere bene e voler rispettare, anche se, sottolinea, non c'è nulla di incostituzionale nel voler regolamentare il possesso delle armi. Parole dirette a quella parte del congresso che ha più volte ostacolato ogni legge in proposito. Ad ascoltare l'appassionato discorso di Obama c'è Gabby Guilford, deputata democratica gravemente ferita in una sparatoria a Tucson, dove teneva un comizio, è seduta in mezzo ad una platea di vittime e parenti di persone morte nelle varie sparatorie che ormai, quasi con cadenza quotidiana, insanguinano gli Stati Uniti. Pochi minuti prima che il presidente cominciasse a parlare, una bimba di due anni è stata uccisa da un altro bambino con una pistola trovata in casa. E quando arriva al ricordo della scuola elementare Sandy Hook, dove tre anni fa furono uccisi 20 piccoli e 8 adulti, sul viso di Obama scorrono le lacrime. A Charleston, dove in una chiesa afroamericana un suprematista bianco aveva compiuto un massacro, Obama aveva cantato Amazing Grace. Dopo l'eccidio di ottobre in un college dell'Oregon, aveva detto che non essere riuscito a limitare l'accesso alle armi era per lui motivo di grande frustrazione. Poi era arrivata a San Bernardino, dove è stato proprio un americano, un vicino di casa a dare le armi d'assalto alla coppia jihadista. 11 mesi prima di lasciare la casa bianca, Barack Obama tenta il tutto per tutto per un piano che non serve a piangere una strage, ma a prevenirne un'altra. Ci saranno più controlli da parte di chi vende sugli acquirenti. Tutti i dati saranno passati all'FBI. Non sarà possibile nascondersi dietro falsi documenti. soprattutto si lavorerà a tecnologie che impediscano ai bambini di fare fuoco maneggiando un'arma. Donald Trump, in corsa per le presidenziali del prossimo novembre, ha già annunciato che in caso di vittoria cancellerà la legge, dalla sua alla potente lobby delle armi. Nel suo tweet, il presidente che vuole passare alla storia anche per aver dato regole alle armi facili, è stato chiaro che le lobby possono tenere in ostaggio il congresso, non tutto il paese. Una scelta forte, anche se Obama è, come si dice nel gergo politico americano, un'anatra zoppa. Il suo potere è limitatissimo nell'ultimo anno del secondo quadriennio e ha contro la maggioranza repubblicana nei due rami del Parlamento. Però il gesto è forte e potrebbe avere efficacia, soprattutto lanciato, proiettato nella campagna elettorale per la sua successione. L'Italia e l'Europa hanno altri problemi che quelli della violenza delle armi. Hanno il problema, tutti insieme, di come rispondere a un fenomeno che è epocale. Lo sappiamo, la migrazione che arriva dal sud e dall'est del Mediterraneo. E purtroppo, se Obama piangeva per i bambini, vittime di quelle stragi interne, a noi non resta più neanche la possibilità di fingere commozione, perché il mondo e l'Europa hanno già finto commozione a metà dell'anno scorso per i bambini che muoiono nei naffragi, che pongono fine ai viaggi della speranza nel Mediterraneo. Dovevano raggiungere l'Europa ad ogni costo su quei gommoni stracarichi. Ci hanno provato con una traversata breve, ma d'alto rischio. Dalla Turchia fino all'isola di Lesbo, poche miglia marine con il mare grosso e un vento gelido. Due imbarcazioni sono colate a picco questa notte con loro. Tutti i passeggeri siriani, iracheni, algerini. Sono morti a decine, almeno in 36, secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità turche. Tra di loro ci sarebbero almeno sei bambini e sei donne. I giubbotti di salvataggio che molti di loro indossavano non sono bastati. Le immagini che vedete sono le uniche che possiamo mostrarvi per una tragedia, le cui proporzioni sono ancora provvisorie con gli agenti della Gendarmeria della Guardia Costiera che continuano a scandagliare l'acqua alla ricerca di sopravvissuti. Possibilità che con il passare delle ore si fa sempre più flebile. Comincia nel peggiore dei modi del 2016 che già si era aperto con la notizia della morte dell'ennesimo bimbo siriano Khalid, di soli due anni, viaggiava su un gommone insieme alla madre ventenne ad altre 38 persone. Anche la loro imbarcazione si è schiantata sulle rocce di un'isola dell'Egeo. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Immigrazioni, quanto a vittime il 2015 è stato l'anno peggiore di sempre. Su poco meno di un milione di persone che sono riuscite ad arrivare in Europa, quasi 4.000 non ce l'hanno fatta. Non era invece ancora partito alla volta dell'Europa Faris Khadir Ali, un bimbo siriano di quattro mesi ieri è morto assiderato in una tenda in un campo o profughi nella provincia sudorientale turca di Batman. Questa è la parte peggiore della questione profughi, ma ce n'è una quantitativamente allarmante. Si sa quello che sta succedendo nelle frontiere di centro-nord dell'Unione Europea, dove Danimarca e Svezia hanno di molto aumentato i controlli fino a far temere. Lo ha detto a chiare lettere il ministro degli interni della Germania, una fine dell'intesa di Schengen. E' proprio per scongiurare la rottura di quell'accordo di libera circolazione all'interno dell'Unione che domani a Bruxelles sono stati convocati proprio i ministri competenti di Danimarca, Svezia e Germania. Schengen è sotto pressione. L'accordo che garantisce la libera circolazione delle persone nei 26 paesi che lo hanno firmato rischia di sgretolarsi, travolto dal flusso di migranti in arrivo in Europa. La decisione di Svezia e Danimarca di ripristinare, almeno in modo temporaneo, i controlli alle frontiere preoccupa la Commissione europea perché potrebbe essere adottata a cascata dagli stati vicini. L'emergenza ha raggiunto un livello talmente elevato che il commissario agli affari interni e all'immigrazione, Dimitri Savramopoulos, ha convocato per domani una riunione straordinaria a Bruxelles. È qui che i rappresentanti dei governi di Svezia, Danimarca e Germania saranno chiamati a migliorare il coordinamento fra paesi per assicurare una migliore gestione della pressione migratoria. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità attraverso una serie di misure, ma nessuno ha la bacchetta magica, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Schinas, ribadendo che per salvaguardare l'area di libera circolazione serve un controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione. I provvedimenti adottati da Copenaghen e Stoccolma, fanno sapere da Bruxelles, sembrano in linea col codice Schengen, il cui articolo 23 stabilisce la condizione necessaria per derogare al principio della libera circolazione, che ci sia cioè una minaccia grave alla sicurezza interna per l'afflusso senza precedenti di migranti e richiedenti asilo. A mettere a dura prova la tenuta dell'Unione europea in quest'inizio anno è anche l'eventualità dell'uscita del Regno Unito, la cosiddetta Brexit. Nel discorso alla Camera dei Comuni, questo pomeriggio, aggiornando la nazione sui colloqui che si sono tenuti a Bruxelles, il Premier David Cameron ha dato libertà di voto ai ministri, a favore o contro la Brexit. Il referendum che tanto spaventa l'Europa è previsto entro il 2017. Ma le tensioni all'interno dell'Europa che riguardano anche noi sui migranti e non solo hanno provocato un altro incidente che potrebbe assumere nei prossimi giorni dimensioni più ampie, che riguarda proprio il nostro Paese. Infatti è stato costretto alle dimissioni l'unico italiano presente tra i 13 componenti del gabinetto del Presidente della Commissione europea Juncker. Si chiama Carlo Zadra e perché è stato costretto alle dimissioni. La decisione è arrivata dopo una serie di contrasti con il capo di gabinetto di Juncker, che è il tedesco Selmayr. Zadra aveva le deleghe su migrazioni, giustizia e affari interni. Ebbene, subito dopo lo scontro che c'è stato nell'ultimo Consiglio europeo su questi temi, e non solo tra Renzi e la Merkel, a Zadra sono state di fatto tolte queste deleghe affidate a un britannico. Di qui l'inevitabilità delle dimissioni di Zadra già stigmatizzate dal governo italiano che pretende una sostituzione con un connazionale, il che però non è affatto automatico. Ma la Germania vive a sua volta le contraddizioni per la questione della presenza è così folta e numerosa a questo punto di migranti, di profughi, di cittadini comunque provenienti da altri paesi e da altre etnie. Il caso più macroscopico, e che non c'entra forse direttamente con la migrazione, ma come sentirete poi ha delle attinenze, è accaduto a Capodanno, a Colonia, ma solo oggi se ne è capita l'ampiezza. E' in questo scenario di caos, con fuochi di artificio lanciati ad altezza uomo, che la festa di Capodanno a Colonia si è trasformata in un orrore. Vicino alla stazione, nelle ore a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, ci sono state decine di aggressioni. Finora sono 90 le denunce arrivate alla polizia per molesti, aggressioni e furti, una anche per stupro. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, un migliaio di uomini ubriachi, aggressivi all'apparenza di origini arabe, si è radunato nella centralissima piazza tra la stazione e il Duomo, per poi dividersi in gruppi di una cinquantina di persone che come bande aggredivano le persone presenti, in particolare le donne. Molte testimonianze raccolte dai giornali tedeschi parlano di insulti, palpeggiamenti e pesanti molestie sessuali che non si sarebbero fermate nemmeno con l'arrivo della polizia. Indignata, la cancelliera Angela Merkel ha parlato di attacchi ripugnanti, reati che esigono una risposta compatibile con lo stato di diritto. La polizia sta analizzando i filmati di alcuni cellulari e quelli delle telecamere a circuito chiuso della zona per identificare gli aggressori e il capo della polizia in conferenza stampa ha parlato di crimini di una dimensione completamente nuova. Le offese sono state perpetrate da un gruppo di uomini tra i 18 e i 35 anni che dall'aspetto sembravano avere origini arabe o nordafricane, ha detto il capo della polizia di Colonia. Ed è questo l'aspetto che ora rischia di innescare una miccia politica con i gruppi e partiti contrari all'accoglienza dei migranti. Collegare quello che è successo alla questione dei rifugiati sarebbe una semplificazione e una strumentalizzazione sbagliata. Prima è necessario chiarire i fatti. Cinque sono le persone arrestate finora. Andiamo a vedere però come l'altro, come si sa, momento di tensione, l'altro focolaio di tensione soprattutto diplomatica sia quello tra Arabia Saudita e Iran. E quella tensione certo non si è abbassata oggi. Le autorità iraniane hanno deciso di sospendere il pellegrinaggio minore alla Mecca finché l'Arabia Saudita non garantirà migliori condizioni di sicurezza. Il riferimento è alla tragedia del settembre scorso quando a Mina diverse migliaia di pellegrini, tra i quali quasi 500 iraniani, rimasero uccisi in una calca. Tragedia la cui responsabilità Teheran ha sempre imputato alle autorità saudite, colpevoli di aver bloccato una strada per permettere il passaggio ad un convoglio reale. Che l'annuncio arrivi proprio oggi, però, al culmine della tensione tra Iran e Arabia Saudita dopo l'esecuzione, da parte di Riyadh, dell'imam shiita Nimr al-Nimr, è tutto tranne che un caso e si inserisce in un escalation che appare inarrestabile. E che certo non contribuirà a fermare la dichiarazione approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che si chiude sì con un invito a mantenere il dialogo e a ridurre le tensioni nella regione, ma che contiene un'esplicita condanna solo degli assalti all'ambasciata saudita di Teheran e al Consolato di Mashhad e nessun riferimento alla morte di al-Nimr. Non certo il punto di equilibrio ideale per placare la rabbia sciita. Ma il Consiglio di Sicurezza e il segretario generale Ban Ki-moon oggi hanno anche ricevuto due lettere da parte delle missioni diplomatiche dei due paesi al Palazzo di Vetro, proprio in relazione a quegli incidenti. I sauditi chiedono al Consiglio di Sicurezza di adottare misure adeguate, mentre Teheran esprime rammarico per l'accaduto e annuncia sforzi per prevenire episodi del genere in futuro. Una battaglia diplomatica che vede il fronte sunnita sempre più compatto, anche il Kuwait ha richiamato il proprio ambasciatore in Iran seguendo l'esempio di Bahrain e Sudan. Ieri a loro volta gli Emirati Arabi avevano deciso di ridurre la loro rappresentanza a Teheran. L'Arabia Saudita, che ovviamente per prima aveva deciso l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Repubblica degli Ayatollah, ha assicurato che queste decisioni non avranno ripercussioni sugli sforzi di pace in Siria e in Yemen. Come confermato dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, in missione in queste ore tra Riad e Teheran, proprio per cercare di allentare la tensione tra i due paesi. Riad non può coprire il suo crimine interrompendo le relazioni diplomatiche, ha detto il presidente iraniano Rouhani, auspicando poi una presa di posizione da parte dei paesi europei da sempre sensibili in tema di diritti umani. Ma questa vicenda, come si sa, ha contribuito ieri a gelare le borse nel modo che sappiamo, ma la vera origine arrivava dalla Cina, da quel meno 7% della borsa di Shanghai. Oggi sono state proprio le autorità bancarie e centrali cinesi a irrorare di liquidità il mercato così da evitare un bis di quel lunedì nero che abbiamo alle spalle. Le borse europee hanno rimbalzato e in Europa, se mai, la questione di cui si è più parlato è il dato sull'inflazione, che in tutto il territorio dell'Unione è cresciuta soltanto dello 0,2% l'anno scorso. Già era difficile spiegare alla gente che avere più inflazione è un bene. Ci sono generazioni, le più anziane, che vedono infatti la crescita dei prezzi con timore per non dire terrore. Ora è onesto dire che non solo tutto quel che si è fatto era per questo, con il quantitative easing, lo stampa soldi di Draghi. È onesto anche dire che non ha funzionato. Il saldo dell'inflazione nel 2015 nei paesi dell'euro vale due decimali in Italia, dove statisticamente non ci facciamo mancare mai un fanalino di coda, è la metà, lo 0,1%. E anche qui, sforzi di liberare moneta, vedi bonus da 80 euro, vanno così e così. Stampare 60 miliardi di denaro fresco al mese, e lo si fa già da marzo per acquistare titoli di Stato principalmente dalle banche, che dovrebbero poi girare l'incasso alla falda, cioè noi, significa aver stampato almeno già 600 miliardi. Una valanga di contanti senza tetto, che non hanno cambiato la storia fin qui di una virgola. La stessa previsione della Banca Centrale Europea era, è vero, modesta, parlava di tre decimali di inflazione nel 2015, ma si è sotto e soprattutto si è lontanissimi da quell'obiettivo statutario che prevede come ragionevole nell'eurozona un livello del 2% di inflazione. Tornarci in un biennio, ma siamo indietro del 90% impietosamente. Si dice che oggi l'Italia abbia segnato secondo l'Istat un salto indietro di 56 anni, ma è così bassa l'inflazione dal 1959, quando ci fu però deflazione allo 0,4%. Ma fu boom economico, si avviò quell'anno e adesso è invece un'Italia lontana da ogni record, tranne quello del debito pubblico. Ecco, se ci fosse più inflazione, automaticamente lui peserebbe di meno, è uno dei rimedi per mangiarlo. Facendo ripartire l'economia poi, la forbice con il debito si chiuderebbe anche grazie all'aumento del fatidico PIL. Peccato che, per il famoso teorema dello 0, ritmo percentuale con il quale cresce l'Italia, non sta andando così. E allora, sintetizzando, a chi si guarda per il sostegno nella ripresa? Chiaro, a chi cresce più di noi, vedi la Cina. Ecco spiegata la paura di queste ore sulle borse europee. Oggi recuperano e Milano meglio delle altre, ma resta il pensiero. La Cina non può più tappare tutte le falle della crescita occidentale, produrre e comprare. Pechino è intervenuta sui mercati di Shanghai e Shenzhen con 20 miliardi di dollari. Stessa ricetta, dare liquidità, far circolare moneta, funzionava una volta. Come avete visto, le questioni internazionali ed europee hanno preso la parte maggiore del telegiornale. Anche perché in Italia siamo all'insolite. Si discute sulle unioni civili, se devono essere votate da una maggioranza come quella che legge il governo o da un'altra maggioranza. E ci sono i soliti punzecchiamenti tra PD e 5 Stelle. A evocare l'asse con Selle e 5 Stelle sulle unioni civili che spaccano la maggioranza è Deborah Serracchiani. Continueremo a discutere anche con l'NCD. Non scarichiamo nessuno, dice la vice segretaria del PD. Ma la legge va fatta. Abbiamo sempre detto che il testo è aperto alla condivisione. Il fatto che in commissione abbia avuto il sostegno di Selle e 5 Stelle lo trovo normale. Se ci stanno mi pare un fatto positivo per tutto il paese. Una convergenza limitata alla legge che chiama in causa le coscienze, ma che non mette in discussione gli assetti di governo, assicura la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, convinta che alla fine passerà anche il punto più contestato dai centristi, la stepchild adoption, secondo gli obiettori, un modo per consentire le adozioni da parte delle coppie omosessuali. Il pressing della Serracchiani mette sul chiva l'NCD che guarda con sospetto le alleanze locali con Selle che il PD sta cercando di tessere in vista delle amministrative e punta il dito contro le turbulenze interne al Partito Democratico. Il PD e il suo segretario devono decidere se questo governo sarà anche per il 2016 il governo del cambiamento o se l'eterno congresso interno al partito renderà l'esecutivo ostaggio della sinistra più conservatrice, commenta il capogruppo alla Camera di Area Popolare Maurizio Lupi, sentiamo esponenti importanti del PD parlare di convergenze con Selle e Cinque Stelle, di maggioranze variabili che non hanno mai portato grande fortuna. La questione delle unioni civili non riguarda il governo, ma una palla di neve può diventare una valanga per l'esecutivo, avverte il leader di NCD Angelino Alfano, che si rivolge direttamente alla minoranza del PD. Se questo governo non le va bene, faccia le proprie scelte, provi a farlo cadere, ma non ci usi come pretesto. Noi non intendiamo diventare di sinistra, non vogliamo partecipare alle primarie del PD né aderire alleanze con Selle. Dalla minoranza democratica risponde Gianni Cuperlo. Alfano lascia intuire che per lui la soluzione migliore sarebbe una spaccatura del PD, con la sinistra che se ne va. Lasci perdere la sinistra dentro e fuori il PD, non è cosa che lo riguarda e la materia mostra pure di conoscerla poco. Sul punto sono certo che anche dal vertice del mio partito giungerà una risposta netta e chiara. Si diceva dello scontro ormai quotidiano, soprattutto attraverso i social networks tra PD e 5 Stelle. Tra l'altro oggi a gettare olio bollente su questa polemica c'è anche un addio a Grillo e ai suoi, da parte del professor Becchi che in una stagione iniziale era stato uno dei portavoce informali del movimento stesso. PD di bugiardi, l'hashtag lanciato da Beppe Grillo su Twitter apre il nuovo scontro via social tra 5 Stelle e PD. Punto della discordia, la diversa lettura di un articolo sul Movimento pubblicato qualche giorno fa sul Financial Times e rilanciato dal blog di Grillo come un giudizio di sostanziale promozione. Traduzione contestata dal PD, di cui l'attacco di Grillo rilanciato dai parlamentari che sul blog hanno contestato anche la lettura di Renzi dei dati Eurostat, una conferma per il premier di un paese che è ripartito. L'Italia cresce meno di tutti i paesi della zona euro, attaccano i 5 Stelle riportando una serie di parametri negativi. Una guerra sul terreno dei social, mentre le cronache politiche di questi giorni parlano di possibili convergenze parlamentari tra PD e 5 Stelle sulle unioni civili. Una possibilità citata dal professor Paolo Becchi, un tempo considerato l'ideologo del Movimento, nel motivare il suo addio a Grillo. Il Movimento 5 Stelle si sta trasformando in un partito ibrido ed ha stretto con il PD un nuovo patto facendo da stampella al governo Renzi e l'accusa del professore genovese che cita tra gli esempi le unioni civili e l'intesa per eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Anche Grillo ormai è divenuto un ologramma, attacca Becchi riprendendo il contromessaggio di Finiano del fondatore. Forse era inevitabile che il Movimento si istituzionalizzasse, ma il sogno è finito. Un addio annunciato, del resto da tempo il feeling tra il professore e il Movimento era scomparso. Più volte in passato Grillo era intervenuto a spiegare che Becchi non rappresentava in alcun modo i 5 Stelle. Ma l'addio di Becchi, che arriva pochi giorni dopo l'espulsione della senatrice Serenella Fucsia, è l'occasione per il contrattacco, sempre via social del PD. I parlamentari più vicini a Renzi si scatenano. Attenzione, caduta 5 Stelle, twitter Ernesto Carbone. Le 5 Stelle si spengono senza avere combinato niente in Parlamento né fuori, scrive il senatore Franco Mirabelli, a cui fa eco il collega Marcucci. Tra espulsioni e sospensioni, l'ultimo chiuda la porta. Avete capito bene perché abbiamo messo la politica in fondo alle notizie del nostro giornale. Vi dico subito e vi anticipo che, visto che abbiamo parlato delle quotazioni di borsa in Europa, che in questo momento New York sta procedendo molto, molto piano, con un più 0,19 del Dow Jones e lo stesso identico risultato in percentuale parziale, più 0,19 anche per il Nasdaq. Dopo di noi, a 8 e mezzo, Lilly Gruber ospita due protagonisti molto diversi della scena pubblica, Fabio Volo e il professor Michele Ainis. Noi ci fermiamo. L'ultima notizia riguarda ancora una vicenda che nei giorni scorsi abbiamo trattato, perché ancora sul caso della fotografia di uno dei carabinieri che sarebbero indagati per il pestaggio che avrebbe concorso a far morire Stefano Cucchi, la foto è stata postata proprio dalla sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, prende la parola la stessa Ilaria Cucchi, che dice i processi non vanno fatti sul web ma nelle outle di giustizia, con ciò modificando evidentemente la propria posizione. Però vuole ricordare a sua volta che gli insulti e le minacce non ci appartengono, anzi ci nuocciano gravemente. Preferisco esserne bersaglio io piuttosto che altri. Mi sono fatta del male come temevo, ma che strumenti ho da normale cittadina per tutelare me e la mia famiglia dopo sei anni terribili che avrebbero portato chiunque alla disperazione? Questa è la presa di posizione che modifica in modo sostanziale la posizione di Ilaria Cucchi per i fatti dei giorni scorsi. È tutto, vi lascio a otto e mezzo, buonasera domani.